Un saluto dal TG della mobilità. Da oggi e sino a sabato Piazza del Popolo ospiterà l'evento musicale Summer Eats. Nell'area di Piazza del Popolo sono quindi previste modifiche alla viabilità e chiusure al traffico. Dettagli e aggiornamenti su romamobilita.it. Le altre notizie sabato in occasione del decimo incontro mondiale delle famiglie sono attese circa 50.000 persone a Piazza San Pietro per assistere dalle 18.30 di sabato alla celebrazione della messa da parte di Papa Francesco. Previsti di vieti di sosta e chiusura al traffico sulle strade a ridosso di Piazza San Pietro questo sabato. Aggiornamenti anche in questo caso